24 sono finora le edizioni del premio di scrittura femminile il paese delle donne 15 luglio 20 luglio per le tesi di laurea e la scadenza per partecipare 2000 e l'anno della prima edizione del premio che valorizza e fa conoscere la scrittura femminile 6 sono le sezioni alle quali possono concorrere autrici case editrici enti pubblici e privati saggistica narrativa tesi di laurea poesia arti visive opere per l'infanzia il bando 2023 e le modalità di partecipazione su www.womennews.net